L'alba sta sorgendo, salutate il nuovo giorno. Oggi torniamo a parlare di ingrandimento del pene e porterò l'esempio di una routine per principianti. In poche parole una scheda di allenamento, un protocollo di allenamento per chi ha appena iniziato ad approcciarsi a questo mondo. Molte delle cose di cui parlerò in questo video sono una riproposizione sintetizzata degli argomenti che trattai nella mia guida completa all'ingrandimento del pene. Per chi non dovesse avere visto quella guida e fosse interessato ad essa, bene, lascerò il link in descrizione. Comunque, bando alle ciance, iniziamo a parlare di questa scheda di allenamento. La nostra scheda di allenamento conterrà tre esercizi. Il primo, per la qualità dell'erezione, perché ricordiamo che migliore è la qualità della nostra reazione, più veloci saranno i guadagni. Il secondo esercizio riguarderà la larghezza e il terzo esercizio riguarderà la lunghezza. Partiamo dal primo esercizio che consiste semplicemente nel alzare pesi con il proprio pisello, in questo modo. Sperando che YouTube non mi censuri la cosa. Cosa inconsiste questo esercizio? Questo esercizio consiste semplicemente nel procurarsi un'erezione, applicare un sovraccarico in fondo al pene e contrarre i muscoli pubo-cocigei, come negli esercizi Kegel. Adesso gli esercizi Kegel sono utili, ma serve migliorare, serve aumentare l'intensità, serve un progressivo sovraccarico, come in palestra. Se noi in palestra solleviamo sempre lo stesso peso, non miglioriamo. La stessa cosa riguarda i muscoli pubo-cocigei, per cui l'esercizio consisterà in questo. Tre serie da almeno 20 ripetizioni ciascuna, per cui, erezione, applichiamo il nostro peso e contraiamo i nostri muscoli pubo-cocigei fino a muovere il pene in questo modo per 20 ripetizioni. Quando riusciamo a completare tutte le tre serie e tutte le 20 ripetizioni di ogni serie, ecco, è lì che possiamo aumentare il peso e così ancora, ancora e ancora. Questo, a mio parere, è forse l'esercizio migliore per migliorare la qualità dell'erezione ed è importantissimo. Passiamo adesso al secondo esercizio. Qui, purtroppo, c'è una cosa che non mi piace tantissimo. Perché? Perché mi piacerebbe che un protocollo d'allenamento per chi è novizio, perché si è appena approcciato al mondo, fosse gratuita. Possa farla gratuitamente. Purtroppo, l'esercizio manuale per allargare il pene più famoso di tutti è il gelking e praticamente c'è quello e poco altro. Il problema è che il gelking non lo consiglierò mai, probabilmente, perché nel lungo tempo causa danni al pene e porta allo sviluppo di tessuto fribot, fibrosi, tessuto cicatrizziale e riduce l'utilità del pene, la funzionalità del pene. Questo vuol dire che nel lungo periodo può causarci disfunzione erettile. Adesso alcuni possono dire, eh no, ma io ho iniziato gli esercizi Kegel e le mie reazioni sono migliorate. Sì, all'inizio migliorano, nel lungo tempo peggiorano. Per cui, a male in cuore, devo subito dire che per il secondo esercizio, quello per la larghezza, siamo quasi costretti, se vogliamo fare le cose bene, con lungimiranza e in maniera salutare, ad acquistare una pompa di questo qua. Adesso io non ho nessuna sponsorship, non ho nessun codice in sconto da inserire in nessun sito, nessuna collaborazione con nessuna casa produttrice, per cui questa non è una marchetta, non ci guadagno soldi dalla cosa. Adesso io uso la pompa della Bathmate, ma uno può comprare la pompa di che gli pare, anche quelle senza marca, senza niente, di plastica da 5€, basta che funzioni. L'importante, a mio parere, è che sia ad acqua, perché su di me, perlomeno e su tante persone che ho visto, funziona molto meglio confronto a quella ad aria. L'esercizio sarà più o meno questo. Si va a riempire una di queste pompe d'acqua calda, con una temperatura dai 38 ai 40 gradi, perché il calore velocizzerà i nostri guadagni, si va a infilare il proprio pene in stato eretto dentro questa pompa, si usa questa manopolina o semplicemente, se siamo nella vasca da bagno, si schiaccia così per, diciamo, creare il vuoto, si crea il vuoto e il nostro pene si espande. Adesso all'interno della pompa la cosa di cui dobbiamo preoccuparci è cercare di mantenere un'erezione il più a lungo possibile, per cui possiamo muovere un po' la pompa cercando di stimolarci, possiamo usare anche uno stimolo visivo nel frattempo come la pornografia, anche se magari non è il massimo, o semplicemente ricorrere alla nostra fantasia. L'esercizio consiste nel cercare di fare 10 minuti all'interno di questa pompa a una pressione moderata, non troppo esagerata, cercando di mantenere un'erezione per tutto il tempo. All'inizio magari non sarà tanto possibile, ma nel lungo periodo vedrete che ce la farete, anche perché gli esercizi per la qualità dell'erezione aiutano tanto. Inoltre, usare questa pompa a vacuo non migliorerà solo la nostra larghezza, ma anche leggermente la nostra lunghezza e estremamente la qualità dell'erezione. Sì, anche la pompa migliora estremamente la qualità dell'erezione, provare per credere. Passiamo adesso al terzo esercizio, quello per la lunghezza. Qui si può fare semplicemente manualmente senza spendere soldi. E qui varrà nel fare 10 minuti anche qui di stretching. Mi piacciono le cose in tre cose, tipo 10, 10, 10 di ogni esercizio. Comunque dicevo, fare 10 minuti di stretching nel proprio pene. Per chi si chiedesse cos'è lo stretching per il pene, è esattamente quello che sembra. Si afferra il pene in questo modo, con una presa diciamo AO, proprio appena dietro il grande, se qualcuno non è circonciso deve scoprirlo, e si tira semplicemente. Non bisogna tirare troppo, non deve causare dolore, ma si deve applicare una tensione, semplicemente tirare e basta. La posizione più efficiente in questo caso è quella verso il basso, perché si andrà a allungare i ligamenti che stanno sopra il pene. E questo porterà al maggior beneficio, diciamo, ai risultati più veloci nel lungo periodo. Per cui anche qui si prende il pene in questo modo, in stato flaccido, non eretto, e si tira verso il basso. Con la mano possiamo toccare, diciamo, il nostro, il nostro pube, per sentire proprio il tendine che tira un po'. Questa cosa si fa 30 secondi con una mano, 30 secondi con l'altra, eccetera, per un totale di 10 minuti. Questo è il protocollo di allenamento per principianti. Più avanti nel tempo magari porterò una scheda di allenamento per gli intermedi e per, diciamo, quelli avanzati, che sono anni che fanno questo esercizio. Comunque, questo protocollo d'allenamento vale anche per tutti. Anche se uno è 10 anni che fa questi allenamenti, può comunque ottenere benefici dalla cosa. Anche fare questa routine una, due volte a settimana aiuterà a mantenere tutti i propri guadagni, che ricordiamo in gran parte sono perenni. Perché la pompa andrà a creare nuovi vadi sanguini e, diciamo, lo stretching allungherà i tendini, che rimarranno allungati per sempre, non torneranno mai liberi. Adesso un'ulteriore domanda è quante volte a settimana fare questo esercizio? La mia risposta a questa routine, la mia risposta a questa domanda è sempre la stessa. Questi esercizi si possono fare tutti i giorni, fin tanto che continuiamo ad avere erezioni notturne. Se dovessimo smettere di avere erezioni notturne, quello può essere un sintomo di overtraining, sovraallenamento, per cui in quel giorno possiamo prenderci una giornata di pausa. Adesso, il problema nella cosa è che l'assenza di erezioni notturne può essere causata da altre cose, no? Un cambio nell'alimentazione, un cambio nelle ore di sonno, lo stress, eccetera. Per cui bisogna cercare un po' di capire come funziona il nostro corpo. Però in generale, ogni volta che riusciamo ad avere un'erezione notturna, un'erezione matutina, spontanea, quel giorno possiamo allenarci e fare questa routine. Anche tutti i giorni senza problemi. Ultimo bonus, per riuscire a ottenere più benefici possibili nel più breve tempo possibile, ci sono alcuni, diciamo, cambiamenti al lifestyle secondari. Il più importante è quello di non masturbarsi mai, non perlomeno eiaculare mai con la masturbazione. Col sesso è concesso, per qualche motivo fa un effetto diverso. Due, non indossare intimo o pantaloni troppo stretti. Lasciare tutto libero, no? Stare senza mutande con i pantaloni più larghi è utile. E terzo, non assumere sostanze che possono ridurre le nostre dimensioni del pene. Per esempio, gli stimolanti che vanno ad aumentare i nostri livelli di adrenalina tendono a vasocostringere, per cui ridurranno le nostre dimensioni. Questo andrà a rallentare i progressi. Per cui, se per esempio notate che bevete, se bevete il caffè, il vostro pene, diciamo, si accorcia un pochettino perché aumenta troppo l'adrenalina, ecco, smettere di bere caffè potrebbe essere una soluzione. In generale, smettete anche di pippare, se pippate troppo, perché la cocaina andrà a ridurre, perlomeno momentaneamente, le vostre dimensioni. Detto questo, a me non mi rimane che ricordarvi che quando si desidera ardentemente qualcosa, essere avvolti dalle fiamme non è poi così male. Vi lascio, come ho detto prima, in link, nella descrizione del video, il link della mia guida completa, in cui spiego tutte queste cose in maniera più lunga e più approfondita. Fatemi sapere nei commenti se avete esperienza di questo mondo e bla 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 e noi ci diamo appuntamento al prossimo video.